Ciao, oggi siamo qui nel nuovo impianto di Pistoia del Campo Scuola che è stato completamente rimesso a nuovo dall'amministrazione comunale e con il bando di gestione uscito è stato un mese, un mese e mezzo veramente di grandi grandi lavori, grandi aspettative e grandi idee da poter poi dopo portare con la gestione che inizierà realmente l'uno di prossimo con l'apertura a tutti i tesserati dell'impianto di Pistoia. Questo è diciamo quello che è stato fino ad oggi un grande lavoro per essere oggi pronti a dare lustro a questo nuovo impianto di Pistoia. Senti, le Olimpiadi di Tokyo che influenze possono avere anche sulla vostra attività in relazione anche a questa nuova inaugurazione? Io spero veramente che siano una spinta fortissima a far sì che i ragazzi giovani si avvicinino a questo sport che sicuramente può dare tantissimo in fatto di socialità, di formazione a livello anche motorio, però fondamentalmente dà tantissime emozioni questo sport che si vede poi con i risultati che durante le Olimpiadi alla televisione ci hanno fatto tutti sussultare sui divani e sulle sedi.